Roberto Marcato, vicepresidente della provincia di Padova, oggi un doveroso sopralluogo a quest'area di Rovolonna. Ci vuole spiegare quanto è successo? Io una cosa così francamente non l'ho mai vista. La strada praticamente si è liuca fatta. Non c'è più. È un insieme di avvallamenti. C'è una frana sotto e purtroppo il colle sta franando. A causa ovviamente delle piogge di questi ultimi giorni abbiamo il terreno che è imbevuto di acqua e c'è questa frana che sta demolendo, come potete vedere, la strada. E tutto questo nel giro di pochissime ore? Questa notte, perché ieri sera la strada dava qualche segnale di tensione, però c'era qualche crepa. Questa notte è successo questo, quello che vedete. Il problema è che adesso dovremmo ragionare su un intervento emergenziale, perché la strada va ovviamente ripristinata. Qui ci sono attività, ci sono cittadini che sono bloccati. Quindi la strada va ripristinata. Il problema è che se non si risolve la criticità alla base, che è questa frana che continua ad insistere su questo pezzo di colle, noi rischiamo che fra tre mesi, quattro mesi, cinque mesi, alle prossime piogge, di riavere la stessa situazione. Grazie. Grazie.